Si stima che oggi in Italia 3 milioni e mezzo di donne e un milione di uomini abbiano problemi di osteoporosi, quindi fragilità ossea con il conseguente rischio di fratture che riguarda soprattutto le persone anziane. Il problema è relativo in particolare al 75% della popolazione femminile sopra i 60 anni di età. In Emilia Romagna si parla di 550.000 persone. Nasce da questi e altri dati la campagna nazionale Il Piatto Forte, portata avanti da Firmo, Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie dell'osso, con sede a Firenze. La campagna, fino a domenica pomeriggio, fa tappa a Ferrara, in Largo Castello, con un camper e un gazebo. I ferraresi e le ferraresi avranno la possibilità di confrontarsi con personale specializzato, affrontare un breve questionario di autovalutazione, parlare con un nutrizionista, ma anche valutare la densità ossea, vertebrale e femorale con un dispositivo, EcoS, che permette la diagnosi precoce delle osteoporosi con un semplice esame ecografico. Obiettivo finale della campagna, che è partita dalla Lecce e nei prossimi weekend toccherà Cagliari e Catania, a crescere l'informazione sull'osteoporosi e sensibilizzare la popolazione sulle fratture da fragilità, che oggi possono essere evitate con un'alimentazione corretta, un'attività fisica regolare e un trattamento farmacologico tempestivo.